Alle 23 di ieri sera i 56 seggi delle sezioni scrutinate a Caltanissetta si sono chiusi. Il capoluogo che rientra nella circoscrizione Sicilia 1, che comprende le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, al collegio uninominale U04 e al collegio plurinominale P02. Ad esprimere il loro voto per le elezioni politiche di Camera e Senato sono stati il 55,7% dei nissendi pari solo a 26.550 dei 47.667 aventi diritto al voto. Il dato emerso dallo spoglio per Camera e Senato ha decretato la vittoria del centrodestra con Michela Brambrilla, di Forza Italia, imprenditrice nata nella provincia di Lecco, presente alla Camera dei Deputati dal 2018, premiata da 8.772 nisseni pari al 34% dei votanti in città. Ha ricevuto il 28,68% dei voti, ovvero la preferenza di 7.192 nisseni d'Eda Lopignatone, del Movimento 5 Stelle, avvocato di San Cataldo, membro già della Camera dei Deputati, dal 2018. Il 18,11% dei voti è andato a Martina Riggi del PD, anche lei di San Cataldo, seguita da Giampiero Modaffari, ex sindaco di San Cataldo, che ha ottenuto il 10,2% delle preferenze della lista sud-chiamanorda di De Luca. Al Senato della Repubblica la scelta dei nisseni vede Stefania Craxi, ex sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, deputata dal 2006 al 2013. Dal 2018 la senatrice per Forza Italia traguarda il 36% dei voti. Seguita dal gelese Pietro Lorefice, già nel Movimento 5 Stelle, e senatore della Repubblica Italiana dal 2018, con il 29,34% dei voti. Il 18,25% va invece alla nissena ex vice sindaco di Caltanissetta, Marina Castiglione del PD. I dati dei collegioni nominali riconfermano il dato già avuto in città per Brambrilla, con 33.766 voti pari al 35,73%, e per la Craxi, 96.453 voti pari al 37,69%. Resta comunque il dato degli astenuti a Caltanissetta per le elezioni politiche del 44,30%, che fa comprendere la posizione di 21.117 cittadini che hanno rinunciato ad esprimere il proprio voto.